Allora, innanzitutto, buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo incontro. Ora, ci possiamo scusare relativamente per quanto riguarda comunque un po' il caldo, a meno io mi sento molto accaldato, quindi speriamo che comunque questo calore invece poi lo possiamo trasformare in interesse verso l'incontro e verso l'opera appunto di Paolo Cochi. Allora, mostro di Firenze, innanzitutto mi presento, io sono Saverio Zeni, faccio parte della redazione di Occhè Mugello, che è il giornale qui del territorio. Volevamo andare nei streaming come nelle migliori famiglie quando ci sono gli eventi importanti, però questo non sarà possibile, mentre viceversa stanno effettuando delle registrazioni appunto per Radio Radicale, oltre che Radio, anche Web TV. Benissimo, allora facciamo questo incontro con Paolo Cochi, torniamo a parlare di un argomento piuttosto importante, importante per quanto riguarda il territorio del Mugello, è per noi tutti insomma un caso, diciamo, che è rimasto irrisolto, o comunque che ha avuto, ha avuto molti aspetti, alcuni curiosi se vogliamo, particolari, ma molti anche ambigui, oltre che essere appunto, essere stata una tragedia appunto per il nostro territorio. Il mostro di Firenze. Quindi, se vi passo un attimo il DVD. Allora, non è soltanto la presentazione di un'opera letteraria, di un giornalista appunto, che ha ripercorso quasi tutte le fasi, anzi tutte le fasi del mostro di Firenze, le inchieste giudiziarie, ma tenteremo questa sera anche appunto, grazie anche alla presenza di Chiara, appunto di Teleiride, di studiare, comunque di approfondire, non studiare, di approfondire anche qualche altro tipo, qualche altro aspetto, qualche cosa che può essere sfuggito. Nel corso di tutti questi anni che, diciamo, ha coinvolto il mostro di Firenze, che sono stati dei decenni, quindi dagli anni 70, diciamo fino a oggi, perché il caso comunque è ancora aperto, quindi è un caso non chiuso, irrisolto. C'è chi ha fatto fortuna su di esso, chi ha descritto in maniera non completamente veritiera, ogni tanto saltava fuori una pista, poi ne saltava fuori un'altra, quindi ogni tanto se ne parla. Allora, io penso che sia opportuno, innanzitutto da chi ha studiato bene questo caso, da chi lo ha seguito dall'84, giusto? Dall'84 c'è il giornalista Paolo Coch che ha iniziato a seguirlo con professionalità e soprattutto con occhi e con visione giornalistica, quindi anche facendosi quelle domande che a volte non era opportuno fare, forse se le è fatte per conto suo e quindi all'interno del DVD, poi quando uno solo potrà guardare, potrà capire e vedere queste domande che non sono state fatte a secondo dei vari filoni di inchiesta, delle varie cose che succedevano. Quindi è importante parlare, tornare a parlare comunque di questo caso irrisolto, del mostro di Firenze, perché secondo me comunque, soprattutto il Mugello, svolge o ha svolto un ruolo chiave, un ruolo chiave perché c'è chi ipotizza tante cose, fra queste anche che, diciamo, il diretto interessato, il famoso mostro, chiamiamolo così, fosse o avesse comunque una stretta relazione con il nostro territorio. Poi, non per niente ci sono stati diversi casi, insomma, li conoscete, sono tutti all'onore della cronaca, però c'è anche di più, vogliamo dire forse c'è anche di più, ci sono degli eventi, delle iniziative che possono passare sotto traccia, che non sono state prese probabilmente in considerazione in maniera coerente, forse anche con il senno di poi si riescono a valutare diversamente e quindi avere un quadro di questa tragedia, quindi di questo mistero, che appunto ha anche dei risvolti di mistero, poterne avere una visione critica, quindi una visione quindi da parte di un giornalista penso che sia una cosa importante. Allora, Paolo Cochi qui è presente, quindi rimetto l'opera al suo posto e possiamo iniziare, insomma, a fare questo escursus. Chiara interverrà, appena poi ora faremo qualche domanda a Paolo e dopo su Chiara, perché per conto Chiara invece ha analizzato il caso del mostro in una versione inedita, se vogliamo, comunque dalla versione femminile, giusto Chiara? Quindi questo è quello che poi lei ci spiegherà. Allora, se volete mi rimetto a sedere, non so come gradite, se sentite bene, ripeto, il microfono è solo per la registrazione, se dobbiamo tenere la nostra voce un po' più alta, fatecelo sapere. Allora Paolo, innanzitutto un giornalista romano, che si, romano lo sottolineo semplicemente perché per quanto mi riguarda è un po' curioso, nel senso che è curioso, forse per me che sono, che all'epoca ero uno di quelli che vivevano con ansia e con drammaticità quel periodo, insomma, perché, piccolo aneddoto personale, io mi ero organizzato con un furgone completamente chiuso e facevo, insomma, le mie cose. Però, Paolo, tu hai analizzato tutti questi problemi, questi delitti e la prima domanda che mi sovviene, secondo tutti questi delitti, allora, il mistero che è rimasto irrisolto, possono aver cambiato in una comunità, o più o meno larga, insomma, proprio abitudini di vita? Quali sono proprio le, diciamo così, le incidenze che questi fatti, questi fatti critici, questi fatti tragici, scusa, possono aver cambiato un po' anche la società? Sì, sicuramente sì. Buonasera a tutti, innanzitutto. Specialmente negli anni Ottanta, qui parliamo degli anni Settanta, quindi è un periodo storico molto diverso dall'attuale e sicuramente ha cambiato i costumi, gli usi di molti giovani, specialmente qui in Mugello, perché qui in Mugello abbiamo avuto tre episodi delittuosi, due omicidi e un altro episodio che riguarda San Piero Assieve, dove venne imbucata la lettera al procuratore, a Silvia della Monica, spedita appunto da San Piero Assieve. Quindi io, diciamo, nell'ultimo lavoro ho ristretto un po' il focus, sempre in maniera storica, in maniera documentale attraverso gli atti d'indagine e gli atti processuali. Quindi dicevo, il Mugello, secondo me, e non solo secondo me, è stato uno dei, geograficamente, dei palcoscenici più colpiti da questa serie di delitti che iniziò nel 1968 e finì nell'85, la serie delittuosa. Noi abbiamo, dunque, un delitto che era il secondo del mosso di Firenze, quello del 74 a Rabatta, quindi a Borgo San Lorenzo, e un altro nell'84 a Vicchio. E poi abbiamo questo altro episodio della lettera spedita al magistrato. Questo noi sappiamo, voi meglio di me, che il Mugello è una realtà geograficamente diversa da Firenze, è lontana da Firenze, quindi venire a colpire qui e sceglie questa zona, soprattutto determinate piazzole, determinati luoghi, sta a significare che sicuramente conosceva questa zona e sicuramente la scelta per fare quell'operazione macabra della spedizione della lettera. E quindi ho approfondito molto questo aspetto andando a ritrovare nei verbali delle numerosissime persone sentite all'epoca un qualcosa che poteva essere sfuggito o comunque non approfondito. E ho trovato delle cose che poi ho sviluppato anche nel libro, e delle testimonianze, a mio avviso, importanti, che se prese all'epoca in considerazione più seriamente, in maniera più efficace, forse avrebbero portato a una soluzione di questo caso. Ora, non volevo dilungarmi troppo e volevo che la collega Chiara facesse questa analisi che io ho trovato molto interessante. Quindi passo direttamente a lei, poi magari interverrò dopo per approfondire quello che può essere quegli aspetti che ho appena citato. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, io parto dal presupposto che sulla vicenda del mostro è stato detto tutto e il contrario di tutto, mettendo più volte in discussione l'intero impianto accusatorio. Una vicenda che ha visto comunque al centro uomini come soli protagonisti, quindi uomini implicati e comunque tutti legati alla vicenda degli otto duplici omicidi. Quindi c'era innanzitutto Pietro Pacciani e i suoi compagni di merende, ma c'era anche un vasto parterre di nomi che sono stati appunto additati come i presunti mandanti. Quindi c'era appunto Michele Giuttari, c'era il giornalista Mario Spezzi, c'era il procuratore Pierluigi Vigna, c'era il farmacista Francesco Calamandrei. Ma in mezzo comunque a tutto c'erano anche loro, c'erano le donne. Le donne che direttamente o indirettamente si sono fatte protagoniste di questa vicenda. Secondo me è molto difficile provare a raccontare una storia di cui tutti bene o male conosciamo i passaggi fondamentali. È ancora più difficile provare a raccontare la storia dei suoi protagonisti. Per questo io ho voluto raccontare questa vicenda in una chiave prettamente femminile, partendo da un oggetto che di per sé, lasciatemi passare il termine, è donna, ovvero appunto la pistola. Infatti il primo oggetto del mio studio è una beretta calibro .22 con munizioni Winchester, tutte marchiate con la lettera H sul fondello del bossolo. Una pistola che appunto rappresenta un mistero, in quanto come sappiamo fino all'85 le indagini sono state realizzate in maniera completamente caotica, caratterizzate da questo forte dilettantismo, da un'improvvisazione che ha portato comunque ad infangare le prove. Quindi giornalisti, persone comune che continuamente calpestavano i luoghi del delitto, quindi portando ad una confusione, un po' come è successo, anche seppur in maniera di minore, nel delitto di Cogne, dove nella villetta di Anna Maria Franzoni c'era questo continuo via vai di persone che ha infangato in qualche modo le prove. Una pistola che non è mai stata ritrovata e per questo rappresenta un po' la chiave di volta per un'effettiva chiusura delle indagini. Addirittura nell'85 venne coinvolta la scuola di criminologia di Modena che realizzò un identikit fisico e psicologico del mostro. Il profilo che ne venne fuori era quello di un uomo della zona, quindi del territorio, di altezza di circa un metro e ottanta e con un'intelligenza superiore alla media. Quindi un profilo che, come sappiamo, non corrisponde esattamente a quello di Pietro Pacciani. Ma c'era anche dell'altro. In quel periodo, fino all'85, c'era proprio questa volontà, la necessità di chiudere le indagini molto velocemente, di trovare un colpevole per paura, per timore, seguito da una vera e propria psicosi da mostro, dove tutti cominciarono ad avere paura addirittura del proprio vicino di casa. Scattò il fenomeno della denuncia, dove le persone iniziarono a denunciare il proprio vicino perché identificato come mostro. Ma c'era anche un'altra cosa ancora più spaventosa e che non fu possibile in qualche modo dimenticare, ovvero il vero e proprio massacro della figura della donna dettato da una mirata perversione. Si potrebbe dire che questa è stata a tutti gli effetti la conclamazione della violenza sulla donna. In quasi tutti gli omicidi il mostro ha praticato proprio sul corpo della donna un brutale accanimento, quindi è stato martoriato, si è viziato senza fietà. Tanto che si cominciò a parlare del sacrificio della donna in chiave esoterica. Per un periodo infatti venne seguita la pista delle dottrine spirituali e dei significati nascosti dietro ad ogni omicidio a cui appunto erano accessibili soltanto ai cosiddetti iniziati. E questo attaccamento, accanimento anche possiamo dire, del mostro nei confronti della donna è stato studiato anche sotto un particolare aspetto. Si cominciò a pensare che il mostro soffrisse di una sorta di dimensione di abbandono da parte della madre, forse perché orfano, o della compagna, della moglie, della fidanzata. Motivo appunto che spiegherebbe questa forte rabbia, questo odio che il mostro ha nei confronti del genere femminile. Un'ipotesi in questa direzione venne perfettamente cuscita addosso a Pacciani. Nel 91, come sappiamo, Pacciani divenne il sospettato numero uno, proprio quando si trovava in carcere a scontare una condanna per stuflo nei confronti delle figlie che indirettamente si sono rese in qualche modo protagonisti anche loro di questa vicenda. Infatti circa 40 anni prima avvenne un episodio cruento che in qualche modo automaticamente ha legato Pacciani alla vicenda degli otto duplici omicidi. Infatti nel 51 Pacciani uccise Severino Bonini, un uomo di 41 anni, dopo averlo sorpreso in atteggiamenti intimi con la sua allora fidanzata di Pacciani che aveva poco meno di 15 anni. In questo caso Pacciani dichiarerà durante appunto il processo di averlo ucciso dopo aver visto la sua fidanzata denudarsi il seno sinistro. E questo è un particolare fondamentale, lo stesso, che negli ultimi due omicidi è stato appunto asportato alle vittime. Quindi potrebbe trattarsi di una coincidenza oppure di un segnale di vendetta molto più evidente e non banale, se vogliamo. Ecco perché l'omicidio di Vicchio, il penultimo appunto ricondotto al mostro, viene ricordato come il più cruento. non solo per l'età giovanissima dei due ragazzi, Pia Rontina aveva da poco compiuto 18 anni, Claudio Stefanacci 21, ma proprio per l'uso, comunque l'abuso, che il mostro fece del corpo ancora cerbo della ragazza. Pia infatti, ricordiamo, vennero asportati il pube ed il seno sinistro con una precisione che è stata più volte sottolineata dal medico legale. E molti hanno addirittura azzardato a paragonare appunto Pia alla giovane ragazza fidanzatina appunto di Pacciani, riconducendola appunto ad un gesto di vendetta, di rivalsa di Pacciani nei confronti del genere femminile. Un destino appunto analogo che coinvolse dieci anni più tardi e a pochi chilometri di distanza anche altri due ragazzi, Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, le seconde vittime del mostro. I due giovanissimi, lei 18 anni, lui 19, furono uccisi nella località di Rabatta, nel comune di Borgo San Lorenzo e sul corpo di Stefania venne attuato un brutale accanimento. Infatti la ragazza dopo essere stata colpita da tre colpi di pistola venne estratta ancora viva dalla macchina. Su di lei il mostro infierì duramente prima con tre coltellate, quelle che poi furono per lei fatali, e poi aggiungendo a queste altre 96 coltellate, tra cui il seno ed il pube. E proprio in quest'ultimo venne inserito un tralcio della pianta di vite. Un gesto che fece pensare ad un possibile movente esoterico. Ma in realtà altri lo interpretarono proprio come un vero oltraggio, l'ennesimo oltraggio, diciamo, del mostro nei confronti appunto della donna. Ricordiamo che le immagini scioccanti del corpo di Stefania provocarono in sede processuale lo svenimento di un carabiniere. e questa è un'immagine che è rimasta comunque ben impressa nell'immaginario collettivo. Si parla infatti di un'attenzione minuziosa, malata, quella che il mostro nutre nei confronti delle donne. C'è infatti qualcosa che accomuna sia Stefania che Pia, il sospetto, comunicato a amici e conoscenti, di essere seguite costantemente da un uomo pochi giorni prima di morire. Infatti Stefania confessò di essere stata importunata da un uomo di circa 40 anni pochi giorni appunto prima di morire dalla stazione Santa Maria Novella fino al quartiere di Novoli dove lei lavorava. Lo stesso accadde per Pia che confessò ad una sua corrispondente danese di sentirsi in pericolo all'interno del bar dove lavorava perché circondata da persone poco piacevoli e poco affidabili. C'è soprattutto anche un altro uomo di cui comunque vi parlerà dopo anche Paolo che gira intorno all'omicidio di Pia e Claudio un signore distinto così come l'ha definito il test Bardazzi il titolare di una tavola calda di San Piero Assieve dove in quei giorni questo signore sembrava voler seguire assiduamente Pia e Claudio sia dentro al bar che al di fuori un uomo di cui però è stata fatta poca luce diciamo e che è rimasto un po' nell'ombra poi Paolo insomma vi racconterà meglio. Concludo dicendo che c'è un'altra donna che è legata in qualche modo a tutte le altre di questa storia che è Silvia della Monica che è appunto il magistrato che si è occupata del caso all'interno della squadra speciale antimostro lei dopo l'ultimo omicidio come ricordava poco fa Paolo ricevette per posta una lettera anonima con all'interno un brandello del seno sinistro dell'ultima vittima della ragazza francese uccisa nell'85 a Scopeti pochi mesi cioè appena un mese fa nella fila del 2019 infatti se ricordo bene della Monica ha rilasciato un'intervista dove ha raccontato il giorno in cui è arrivata questa lettera dichiarando di aver capito da subito cosa stava succedendo e non se l'è sentita di aprire questa lettera l'ha data al suo collega che l'ha aperta per lei trovando appunto all'interno il lembo del seno sinistro di Nadine Muriò ha dichiarato anche un'altra cosa molto importante della Monica che per la prima volta ha avuto la premonizione che poi l'ha comunicata l'ha dichiarata al procuratore Pierluigi Vigna che in quei giorni sarebbe successo qualcosa di terribile che li avrebbe automaticamente ricondotti all'omicidio che sarebbe poi stato commesso ed è quello esattamente che avvenne e questo ha rappresentato non soltanto un affronto una sorta di sfida nei confronti appunto dei magistrati ma a mio parere questo gesto ancora una volta è stato un terribile affronto che il mostro ha voluto realizzare appunto nei confronti di una donna grazie Chiara allora ecco parto proprio da quest'ultimo poi ti passo la parola da quest'ultimo episodio che è un episodio estremamente significativo quello della sfida agli inquirenti che chiaramente è un fattore estremamente dirimente nei confronti del Pietro Pacciani perché un contadino che tutti avete visto insomma nei processi eccetera che si metta a fare un'operazione del genere estremamente difficile anche da un punto di vista solo del del pensarlo come estremamente difficile che sapesse che Silvia della Monica come mi disse a me nell'intervista sul documentario aveva una casa proprio a Stampiera a Sieve e quella è stata lì quindi ci sono tutta una serie di indicazioni che fanno pensare che questo soggetto era conoscenza di alcuni protocolli di indagine faccio un esempio tra i tanti dopo il delitto di Vicchio che è stato quello più a livello nazionale che ha fatto balzare alle cronache nazionali la storia del mostro di Firenze e accadde qualcosa di particolare fu costituita la SAM cos'era? era la squadra antimostro dove una serie di esperti si accompagnati anche da un'equip di Modena si concentravano e indagavano esclusivamente sui delitti del mostro ecco venne fatto venne costituita questa SAM vennero messi in giro la sera delle finte coppie con delle auto blindate e stranamente questo dopo il delitto di Vicchio il mostro aveva ucciso sempre ragazzi in auto e il mostro nel 1985 uccide due ragazzi si intenda questo è uno dei tanti esempi che danno un po' la misura come la località di vacanza della procuratrice che dicevi tu sono degli indicatori non sono delle prove ma gettano anche fortissimi dubbi sul discorso Pacciani che era nella lista della SAM già nell'86 ora un Pacciani che mi viene indagato nel 91 quando è in carcere per la violenza e l'abuso alle figlie dall'86 insomma mi sa un po' di forzatura anche poi sappiamo che su Pacciani non venne fuori nessuna prova al primo processo se non poi quelle dichiarazioni che nel libro andiamo a vedere nel dettaglio e addirittura testimone lotti sbaglia un giorno con un altro insomma il discorso qui si farebbe molto più articolato quindi allora a parte passarci questo microfono proprio per le registrazioni ricordo quindi quello che emerge intanto dalle cose che abbiamo ascoltato è che il pubblico il pubblico normale quello che sta a casa noi che seguiamo diciamo dalle cronache dai giornali o dalla televisione abbiamo una realtà diversa da quello che succede sono due filoni praticamente due realtà che viaggiano parallele però noi non abbiamo le informazioni relative alle carte processuali perché faccio un esempio i famosi riti esoterici nelle carte processuali nelle foto non c'è assolutamente traccia è stata una come non c'è traccia di più persone come non c'è traccia di mandanti sono stati dei filoni di indagine completamente fallimentari senza alcun riscontro appunto di nella documentazione né di indagine che però è stata molto sparata dai giornali è stata molto messa in evidenza anche ultimamente noi abbiamo sentito parlare di Zodiac associato che sarebbe poi diventato il mostro di Firenze abbiamo sentito parlare della strategia della tensione quindi ci sarebbero delle sorta di implicazioni a livello politico la pista nera tutto questo non fa altro e non ha fatto altro che inquinare fortemente la storia di questa vicenda portando anche spesso fuori strada gli inquirenti perché si sono persi si sono fatti dei processi ricordo quello all'ex farmacista di San Casciano che hanno fatto perdere decenni di indagine e questo purtroppo come vediamo adesso ancora continua quindi è un'indagine non chiusa non perché ci sia ancora materiale o nuova linfa di indagine corposa bene ma comunque allora per il cittadino c'è una complicità anche dei media di sparare bene sì d'accordo questo probabilmente ora ognuno fa il suo mestiere poi sicuramente se ci sono delle attività che sfociano un reato ci sarà appunto la stessa magistratura che dovrà intervenire gli ultimi fatti sono accaduti parliamo di questa pista nera di vigilanti è partita quattro anni fa sono passati quattro anni una persona di 90 anni ha anche diritto insomma quindi mi pare che non ci sia nulla sia una cosa estremamente fumosa quello che noi conosciamo come i compagni di merende quindi Pacciani Lotti e tutti gli altri i famosi compagni di merende quindi praticamente anch'essa è una sorta di bolla o sono state dei come dire sono stati presi questi soggetti forse perché deboli no allora sorta di bolla no assolutamente no sono stati fatti dei processi ci sono delle sentenze passate in giudicato opinabili perché il PG quindi il procuratore generale chiese l'assoluzione di Vanni e la callugna di Lotti che si autoaccusò quindi sono delle sentenze abbastanza controverse all'interno della stessa magistratura però ricordiamoci che parliamo degli ultimi quattro dubbi omicidi e quindi ce ne sono altri precedenti che sono completamente senza colpevole da un punto di vista giuridico possiamo dire come io credo che poi la verità storica e quella giuridica non sempre vanno a braccetto e possiamo dire che su queste basi quindi sui compagni di Merende sono stati costruiti degli impianti delle architetture d'indagine che poi hanno portato degli insuccessi completi quindi non abbiamo una verità quindi comunque allora il mostro di Firenze al di là dell'aspetto della tragicità dell'evento è stato anche l'elemento cardine che ha permesso un migliore sistema di indagine al di là per quanto riguarda anche i magistrati su come indagare perché i primi delitti passarono diciamo quasi inosservati poi dopo dal delitto di Pia Rontini e il suo compagno e il suo fidanzato poi dopo invece ha avuto una certa svolta quindi da lì si è iniziato a parlare di mostro di concatenamento e di fare delle indagini forse un po' giù pesanti insomma infatti poi fece quello di Scopesi e finì lì la catena omicidiare quindi una certa pressione ha avuto i suoi risultati molti dicono che i delitti smisero con l'arresto di Pacciani non è vero perché Pacciani fu arrestato nell'87 quindi avrebbe potuto anche continuare nell'86 ad esempio quindi quando sento queste cose insomma sono assolutamente opinabili sicuramente non c'erano i metodi di indagine che ci sono ora quindi il DNA non c'era non c'erano i cellulari non c'erano le telecamere quindi era un sistema di indagine molto rudimentale nei primi delitti le prime indagini venivano lasciate ai comandi carabinieri di paese ricordiamo quello di Rabatta dove addirittura non si accorsero nemmeno che furono sparati i colpi di pistola quindi si accorse il medico legale qualche giorno dopo ma al di là di questo che poi è una costante che noi ritroviamo io ho fatto anche tanti altri casi degli anni 80 degli anni 90 è una costante della carenza tecnica del sopralluogo eccetera noi abbiamo poi un discorso che va oltre cioè se non si ha se non si ha un quadro delineato della scena del crimine ad esempio nell'83 venne stabilito che l'altezza dello sparatore era di un metro e ottanta minimo Pacciani non era certo un 80 e poi confessò Lotti che era stato lui a sparare due colpi che era una persona che non aveva mai preso una pistola in mano però al processo in aula e abbiamo registrazioni proprio di Radio Radicale grazie a Radio Radicale disse che i ragazzi tedeschi quei due uomini erano al volante quindi sbagliò proprio la posizione dei soggetti inattentibili cioè voglio dire poi il giorno dopo tornò in aula tutte queste cose sono state recuperate proprio grazie a un faticoso lavoro di ricerca no? e quindi tutto viene un po' rimesso in discussione chiaramente Allora torniamo a focalizzarci quindi sul Mugello sul Mugello Allora tra le tante domande che possono sovvenire una in particolare io ora lo ripeto come probabilmente molti altri la questione del mosto insomma l'abbiamo vissuto proprio sulla pelle insomma perché mi ricordo che era palpabile la sera quando calavano le tenebre insomma eri con la fidanzata era un po' un po' no? vivere vivere quei momenti ma quindi allora se l'identichito comunque il profilo del del mosto chiamiamo così perché così insomma dobbiamo chiamarlo non è proprio l'uomo non è il guardone non è il pervertito oppure può essere pervertito ma non è il pervertito ignorante insomma in questo caso sembra che abbia ci porti a un profilo diciamo di qualcuno che insomma ha una certa c'è un chiaro riferimento sessuale quindi una patologia di questo tipo poi c'è il chiaro odio verso le coppie perché lui uccideva le coppiette è un caso che mi pare c'era un altro in Costa Rica e nessun altro nel mondo quindi è chiaro che c'era una una sorta di giustizialismo no? o comunque un qualcosa che lui probabilmente io non sono un criminologo ma è di facile lettura un qualcosa che lui non poteva fare nel quotidiano teoricamente tornando al Mugello c'è questo famoso identikit che a me ha colpito molto e che nell'84 venne fatto proprio da due o tre persone testimoni che venne accantonato per una decina da anni venne riproposto quindi pubblicato al processo Pacciani dall'avvocato Bevacqua nel 94 e venne di nuovo riaccantonato questo soggetto che poi magari poteva essere assolutamente un un disturbatore però credo che era era dopo approfondire viene visto al bar della Rontini da un paio di persone due o tre persone viene visto appunto da questo gestore con il padre e la sorella che seguiva lo Stefanacci e la Pia e viene visto la mattina alla boschetta dunque io mi trovo un soggetto descritto nel stesso modo e sulla scena del crimine che seguiva i ragazzi e nel posto di lavoro di lei insomma pezzerino ce lo faccio andrebbe approfondito diciamo andrebbe approfondito ma da quello che so io anche parlando con gli ex investigatori dell'epoca non venne fatto un grande lavoro di approfondimento quindi dobbiamo pensare che c'era più la voglia di arrivare comunque prima possibile a un colpevole piuttosto che scandagliare tutte le possibili opportunità oppiste che si presentavano secondo me sì perché c'è un po' quello che è il meccanismo dell'innamoramento della tesi che scatta quasi fisiologicamente agli investigatori io ho fatto questo lavoro a carattere storico documentale quindi non sono un investigatore però certe cose balzano veramente agli occhi mettendo al posto giusto le informazioni giuste si riesce a vedere un quadro più delineato assolutamente assolutamente sì chiaramente poi le interpretazioni possiamo farle tutti bene fra le ipotesi che comunque sorgono insomma nel vedere il tuo lavoro c'è anche quella appunto lo hai accennato che questa persona questo mostro comunque ha un legame con il nostro territorio assolutamente sì io penso di sì credo non quotidiano cioè non uno che ci vivesse perché chiaramente sarebbe stato riconosciuto insomma però un legame di carattere anche saltuario comunque una sorta di base d'appoggio perché determinati luoghi come appunto la boschetta dove avvenne il delitto dell'84 o anche quello della buca delle lettere a San Piero a Sieve uno di Firenze non è che conosce questi questi posti insomma è abbastanza e da qui nacque Pacciani perché giustamente Pacciani era del Mugello però la personalità di Pacciani era completamente opposta a quella che può essere questo l'hanno detto tutti i profili i profiler dall'FBI ai periti di Modena però siamo sempre nell'ambito teorico non può essere un contadino ignorante non è che non può essere un contadino diciamo può anche essere ma va chiaramente dimostrato e le prove non possono essere certo quelle testimonianze fatte che abbiamo visto al processo dove non c'era un testimone normale cioè lo vediamo su Youtube adesso ci sono hanno riproposto i processi eccetera non trovo un testimone veramente che sia possa essere affidabile bene allora intanto passiamo quindi tu Paolo escluderesti ogni possibilità in merito alla pista sarda allora il delitto della pista sarda nasce appunto con una lettera anonima inviata al giudice istruttore Tricomi nel 1982 che invitava a rispolverare quel vecchio delitto del 68 e quindi quel delitto lì viene associato ai delitti del mosso nell'82 io tenderei ad escludere il discorso della pista sarda perché da come nasce quel delitto che viene rappresentato da molti come un chiaro delitto premeditato per me chiaro delitto premeditato non è perché si parlava di una vendetta nei confronti della Barbara Locci uno dei sardi avrebbe compiuto questo omicidio insieme al marito il marito non era una persona gelosa perché lei andava con tanti uomini quindi il delitto proprio di gelosia si può quasi escludere non avrebbe scelto un giorno in cui era presente un testimone il figlio il bambino quindi perché scegliere un giorno dove c'è un testimone e soprattutto non avrebbe ucciso un'altra persona che era il lo bianco quindi il compagno che era un emigrato siciliano la cui famiglia non era proprio cognato si chiamava Barranca poi legato al discorso delle stragi poi che conosciamo tutti di mafia quindi coinvolgere un bambino e un'altra persona per punire lei lo trovo abbastanza assurdo come non è vero il fatto che il bambino fu accompagnato perché si dice che fu accompagnato a questo casolare noi abbiamo i verbali dei carabinieri che ci dicono che i calzini del bambino erano strappati e sporchi l'orario di arrivo del bambino la casa del De Felice che era quel casolare sulla via Pistoiese è oltre le due di notte loro si appartarono dopo le undici e mezza una persona adulta ci metteva mezz'ora a fare due chilometri invece il bambino arriva in quella casa alle due e un quarto quindi ci sono tutta una serie di elementi che secondo me vanno a escludere il discorso di delitto premeditato o di vendetta quello è un delitto chiaramente anche quello maniacale che non è andato oltre nel compimento delle scissioni magari può essere dato a un fatto proprio alla presenza del bambino non è andato oltre perché forse non ha visto che era presente un bambino bene allora poi questo è un fatto di opinione non è no ma tornando invece nella ricerca nello studio documentaristico che tu hai hai svolto allora quali quali elementi in più che ci possono essere che sono a noi sconosciuti quindi anche nel filone prettamente diciamo mugellano perché io ricordo comunque a memoria il famoso doveva essere un chirurgo poi non so servizi segreti insomma ne sono venute di tante e di oltre però visto che tu hai ricostruito quindi questo quest'opera questo sia il dvd che il libro hai focalizzato sicuramente meglio e può darsi ti sia affiorato qualcosa che noi non sappiamo ma allora io credo che innanzitutto per fare un lavoro di approfondimento bisogna innanzitutto avere gli atti documenti gli atti parlare con le persone che all'epoca erano protagoniste quindi io le ho conosciute le ho incontrate nel corso degli anni ho iniziato a lavorarci da un punto di vista documentale dal 2010 facendo prima un documentario poi altri servizi televisivi e bisogna aver incontrato gli investigatori chi ha indagato sono quasi tutti morti sono quasi tutti o comunque fuori dal spesso si fanno questi lavori così per sentito dire raccogliendo informazioni su internet o spulciando qualche documento in rete non si può fare un lavoro di questo tipo non se si vuole se si vuole ecco elementi sconosciuti non so perché l'informazione che è stata data fino ad oggi è stata troppo vasta ci sono state molte leggende metropolitane ecco quelle dei riti esoterici ad esempio il tralcio di vite che evidenziavi tu è un fatto che secondo secondo me è puramente pragmatico c'erano dei filari di vite accanto quindi dare una connotazione di questo tipo poi bisogna anche studiare se se questi delitti qua a carattere esoterico racchiudano appunto determinate dinamiche e non ci sono delitti di questo tipo oppure ci fu nel tempo il discorso dei mandanti io al mondo in letteratura non ho mai rivisto un discorso del genere dei mandanti stessi perché si parlava anche appunto di questa cioè chi ha quella patologia lo fa in prima persona non va a delegare tantomeno tre vecchi ubriaconi perché Pacciani ha 60 anni nell'85 insomma non è un ragazzino era infartuato gente che beveva che il giorno dopo magari parlava al bar cioè non è operazione da killer non è la strage la bomba la strage questo è un elemento interessante quello che tu hai inserito adesso ma allora com'è che possiamo io mi metto un po' dalla parte del pubblico faccio sono il pubblico no? presuntuosamente come possiamo fare in maniera tale a far sì che perché ciclicamente sarà oggetto comunque di mercificazione almeno a livello giornalistico comunque di media perché ogni tanto uno si ricorda un giornalista si ricorda e dice aspetta faccio un titolo tac e mi vendo dei miei libri invece al pubblico soprattutto anche a noi del Mugello che bene o male siamo indirettamente protagonisti insomma perché ha coinvolto il nostro territorio una sorta di fact checking ovvero com'è che possiamo capire quali sono gli elementi che ci permettono di capire che l'iniziativa cioè le informazioni che escono periodicamente possono essere una bufola piuttosto che informazioni aggiuntive a quelle già che conosciamo un elemento dacci qualcosa beh innanzitutto io quando mi arriva questo tipo non faccio la news non tratto la news tratto faccio più laurei di approfondimento quindi documentaristica va fatto un fact checking quindi una verifica della notizia spesso i giornali chi tratta le news riporta un po' diciamo l'agenzia così ho sentito hanno detto se le ultime le ultime indagini comunque sono state aperte su questa linea insomma ci fu un esposto però poi alla fine mi sembra che qui sono passati 3-4 anni come si fa si fa anche con andando a verificare appunto la documentazione o sentendo magari in prima persona il il magistrato che sta indagando attualmente a me negli ultimi anni non mi risulta che qualcuno abbia riportato se non del procuratore generale Creazzo il quale smentisce il discorso della pista eversiva nera assolutamente che sia andato a chiedere direttamente agli inquirenti sono un po' notizie di rimbalzo e questo lo si vede dalla ridondanza noi abbiamo senza fare il nome un quotidiano fiorentino che sistematicamente quasi una volta al mese riporta i stessi dati quindi due nuovi indagati eccetera eccetera ma leggi l'articolo non c'è assolutamente nulla di l'ultima notizia forse di un certo rilievo è stato quello che trovarono un'ogiva nel cuscino della tenda del delitto di Scopeti ma quello era un fatto che gli addetti a lavori chi ha seguito la storia lo sapeva quindi come si fa a distinguere bisogna avere coniezione del caso e avere la documentazione e andare a verificare poi ci fu quel discorso di Zodiac insomma mi sembra abbastanza il killer dei due mondi mi sembra abbastanza insomma super ora non per voler farla tirata ma allora probabilmente mi permetto io di dire che uno strumento che ci può permettere visto che tu giustamente ti sei presentato come documentarista storico hai fatto tutte queste ricerche indagare ora noi cittadini non è che possiamo chiamare magistrato e dire senti mi dici per caso a livello giornalistico a livello di stampa quindi uno strumento ideale per far checking almeno a livello storico forse può essere proprio la tua opera in quanto tale è un'opera documentaristica per cui accesso agli atti quindi per legge al giornalista dovuto ma anche vedo difficile mia madre ora fare l'accesso agli atti al tribunale di Firenze sempre di giornalisti esattamente però appunto ecco dato che il nostro territorio comunque insomma è coinvolto in questa operazione credo che sia opportuno fare in maniera tale che le informazioni che escono ecco non debbano scaturire nuovi mostri fra virgolette no? perché ogni tanto quindi diciamo in questa storia parecchia gente si è anche suscitata dagli anni Ottanta proprio per questi falsi mostri ce ne sono stati tanti ce ne sono stati tanti dal 1981 veramente tanti sbattuti in prima pagina in maniera secondo te possiamo ipotizzare cioè può essere velata nella tua opera questa diciamo questa risposta forse dice perché perché diciamo su un fatto tragico in questo caso c'è un po' la stampa che ha le sue colpe il mondo del giornalismo ha le sue colpe sotto questo punto di vista dall'altra parte forse anche gli inquirenti essi stessi possono avere delle colpe diciamo forse anche di protagonismo ma quelli passati sicuramente quelli che hanno lavorato su questo caso in passato sicuramente responsabilità e sì no non volevo gettare la cruce addosso alla stampa però è un fatto capisco che la storia del mostro già di per sé con le sue mille sfaccettature si presta a un'infinita infinite interpretazioni quindi si presta ognuno vuol dire la sua e va bene cioè ci sta come opinione però poi andare a mettere una foto in prima pagina insomma diventa abbastanza problematico no? certo per quanto riguarda i giornalisti però secondo me quello che doveva dire l'ha detto si chiuderà come un caso secondo me irrisolto con l'unica possibilità è che qualcuno non so punto di morte o comunque un colpo di fortuna di questo tipo però se continuano ad indagare nonostante delle assoluzioni nonostante vent'anni di indagini che non hanno trent'anni di indagini che non hanno portato a nulla in una determinata situazione direzione che non ha portato risultati non vedo come a distanza di trentacinque anni dall'ultimo delitto va beh però intanto mettiamo qualcosa di positivo insomma chiudiamo la faccia se possibile insomma innanzitutto la sequenza di omicidi si è interrotta si spera che non debba assolutamente ripartire con con altre in altre forme e l'identikit appunto di questa persona comunque la persona di un certo di una certa intelligenza mettiamola in questo modo che poi l'ha utilizzata sicuramente male con conoscenza del territorio e quindi dobbiamo solo ora intanto per fare non so per tirare le tende per dare un punto di chiusura sperare soltanto in una memoria in punto di morte oppure ci possono essere anche altri aspetti che ci possano portare veramente a capire chi è ora pensando anzi sperando che ormai sia già anch'esso passato all'aldilà insomma la speranza c'è sempre come si dice l'ultima a morire anche a distanza di tanti anni però io dico sempre che ci vuole molta prudenza nel proporre delle cose cioè o sono veramente serie si basano su prove concrete o indizi concreti oppure che si lasciano riposare in pace questi ragazzi morti soprattutto penso che sia la cosa più opportuna bene allora il tuo lavoro ha diciamo nelle ultime pagine nell'ultima pagina ha la parola fine nel senso ci dà certezza che per quanto sia possibile insomma almeno la speranza perché certezza che questo tragico fatto insomma possiamo metterlo nella memoria storica del nostro territorio sembra di no perché ancora sono aperte quindi io avevo fatto questo lavoro appunto nel documentario nel 2011 su Sky sembrava già un documentario storico poi fesci una una trasmissione su Italia 7 dove si dimostrava attraverso del degli esperti di entomologia di medici legali che la data del delitto era non era dell'ultimo delitto non era la domenica era il sabato da lì si è rinnescato di nuovo un battage sia mediatico e soprattutto a livello di indagini quindi si è riaperta qualcuno si è accodato a questa scia e ha fatto nuove proposte i nuovi mostri sono nati e quindi si è riaperto anche a livello giudiziario io ho fatto questo lavoro un po' in chiave storica quindi questo è un caso che quando sembra al capolinea ha sempre un punto di ripartenza quindi cova sotto la cenere però dobbiamo considerare cova sotto la cenere soltanto per il protagonista di chi vuole soffiarci sopra per strumentalizzazione oppure fino a ora è questo quindi è per questo che casomai il tuo pensiero è dire lasciamo lì ripostare in pace e diamo la parola fine a questa se c'è qualcosa di concreto cioè di veramente che possa dare una speranza a queste famiglie no? qualcuno è rimasto che ben venga però se deve essere qualcosa per una cosa fare un lavoro di documentale e storico riportando dati questioni fatti e persone è una cosa rilanciare un mostro che poi porterebbe ad altre conseguenze anche più gravi per prudenza quindi non so se Chiara voleva intervenire per aggiungere qualcosa sempre nell'ambito diciamo del mondo femminile che è portato così bene io volevo chiedere a Paolo secondo lui qual è il motivo di questa rabbia di questo rancore che il mostro ha potrebbe avere nei confronti del genere aveva nel genere femminile ma io credo che più era un odio nei confronti della donna però più quando aveva un rapporto sessuale in pubblico perché parliamo di un'epoca no anni 70 80 quindi un contesto storico completamente diverso lui ha bisogno della presenza dell'uomo non uccideva prostitute come generalmente i serial killer o questa tipologia di omicidi ci insegna quindi ha bisogno della presenza dell'uomo era un po' un'operazione di c'era una componente giustizialista e interveniva sempre nei preliminari tranne in un caso che è quello dell'82 di Baccaiano dove avevano già consumato quindi era un po' un un intervenire a livello di interruzione lascia pensare molti psichiatri che ho intervistato dicono che potrà tranquillamente essere una persona che lo faceva per un suo problema sessuale e per una forma di giustizialismo c'è anche un'altra coincidenza che lega le prime tre vittime donne tutte e tre lavoravano nel tessile come si potrebbe spiegare questa storia le coincidenze sono tantissime diciamo la prima no è la Locci quindi secondo me è il primo delitto dalla Pettini poi le due vittime dell'81 avevano sì questo potrebbe essere un indizio come spunto no si è verificato no tante cose non hanno verificato veramente io ho la fortuna e chi fa il mio lavoro ha la fortuna un po' di venire dopo quando la polvere si è già depositata quindi è tutto molto più facile rispetto a chi indaga e questo lo so benissimo però ci sono delle trascuratezze macroscopiche a livello di indagine molto 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 grandi in questo caso io ne faccio anche altri come tu ben sai è uscito il libro su Via Poma Delitto Pasolini insomma ma questo è veramente incredibile proprio al mondo come come caso bene allora se tu sei d'accordo non so se vogliamo se c'è qualche domanda o qualche curiosità insomma da parte del pubblico affinché possa rispondere l'autore ben ben si faccia avanti prego prego si può alzare se ci dice il nome così più chietto eh Salvatore Vinci è proprio come Salvatore Vinci Salvatore Vinci Salvatore Vinci d'anzitutto spieghiamo chi è perché qui non tutti Salvatore Vinci era appunto un amante di Barbara Locci no? è escluso e qui di esclusi matematici non è non si può lavorare o ragionare in termini di esclusione ecco adesso ci arrivo e voglio fare questa premessa bisogna ragionare al contrario cioè bisogna trovare gli elementi che eh siano prove a carico e non tirar fuori un soggetto e dire trovami adesso che cosa lo esclude detto ciò Salvatore Vinci io l'ho trovato estremamente l'ho seguito diciamo chi lo indagava quindi mi sono messo in contatto con i carabinieri degli anni 80 sono tuttora in contatto quindi c'era era uno dei maggiori indiziati della pista sarda sparì dall'Italia e tempo fa nel 2015 riuscì a avere una una notizia che era che era in Spagna lo dissi che era ancora vivo ed era in Spagna che era rientrato in Italia e che non era stato fermato è sicuramente un personaggio curioso però in prima persona non ho trovato elementi che lo possano inequivocabilmente definire Mostro di Firenze in alcuni altri ci sono delle risposte completamente a negativo cioè tipo nella sera del delitto di Vicchio secondo una testimone che era sua compagna lui era a casa e anche in un'altra circostanza poi non vedo Salvatore Vinci nessun legame con questa zona del Mugello come io penso invece il mostro aveva se ci sono altre domande prego per quanto riguarda la tenda degli scopeti eventuali tracce biologiche cioè come mai ancora visto le nuove tecniche non hanno voluto trovare nulla hanno fatto finta di nulla oppure è ben conservata così a prendere un po' di polvere giusto per la tenda di scopeti era l'unica chance secondo me di trovare un dna ipotetico dell'assassino e lo dissi in trasmissione televisiva di 3-4 anni fa e cosa abbiano fatto non lo so so che ci hanno lavorato sopra perché un genetista ci ha lavorato sopra del cariggio cosa abbiano trovato non lo so evidentemente nulla perché se no ormai sono passati 3-4 anni avrebbero sicura bisogna vedere cosa hanno cercato se tu mi vai a cercare perché comunque rimani ancorato a quei vecchi colpevoli e mi vai a cercare il dna di pacciani vanni o lotti e non lo trovi chiudi la tenda e la rimetti in archivio credo sia un lavoro forse inutile non so cosa abbiano fatto sinceramente non so cosa abbiano fatto e non so perché chi è vicino ai vecchi investigatori che attualmente tratta la giudiziaria non gliel'abbia chiesto sinceramente quindi non so darti una risposta soddisfacente per la privacy il cognome non si può dire si può dire che in quel periodo Villa Castelletti nel 68 era un orfanotrofio ed era anche abitata da una famiglia però non posso ovviamente fare i nomi ecco è il luogo del primo omicidio quello del 68 a Signe ottima domanda mi ha chiesto la persona la pista dei soldi di Pacciane sul controcorrente a Pacciane vennero trovati dei buoni postali l'automobile Ford che aveva pagato tipo 4 milioni una casa che aveva comprato nell'84 che era un rudere e ha rimesso a posto e ha rivenduto parte di essa gli furono trovati nel 1986 cioè anno della fine dei delitti 80 milioni di lire che possono essere comparati ai stando larghi 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 il patrimonio 100 mila euro attuali ok nel 92 quando Pacciani va a processo quei soldi lì erano reinvestiti in buoni postali i buoni postali all'epoca raddoppiavano dopo 7 anni e quindi arriviamo ai 152 milioni del 92 ora Pacciani nel 86 con 80 milioni indubbiamente è una bella cifretta però non mi sento di dire che è una cifra da super killer diciamo che era un personaggio molto risparmioso era aveva avuto delle non cause del lavoro comunque delle buone uscite sul lavoro aveva avuto ha avuto un infarto mentre lavorava quindi è una cifra che non dico possa essere compatibile poi se Pacciani facesse attività in nero o comunque attività di frodo devono e non possono essere per forza riconducibili a un ipotetico mandante che lo pagava questo non possiamo dirlo però non possiamo prendere questo come dato o prova quello che posso dire è che in un libro di un ex investigatore poi scrittore viene indicato che questi versamenti venivano fatte nelle date degli omicidi io vi rivelo quant'è la somma dei versamenti si tratta ai due trecentomila lire quindi un delitto che veniva pagato due trecentomila lire all'epoca cinquecentomila lire questi erano i versamenti di Pacciani un milione di lire cioè al limite si può ipotizzare tutto però sì però voglio dire poi per carità ognuno sì sì no però ecco la moglie ha una piccola pensioncina la figlia un piccolo lavoro lui faceva dei lavori in nero eccetera eccetera insomma non può essere un indicatore in maniera assoluta no poi generalmente questo tipo di non è il furto d'opera d'arte che io delego a lei e poi la pago perché lei lo fa al posto mio quella è una pulsione quel tipo di delitti lì ci sono delle tracce sui corpi abbastanza evidenti segno di una patologia poteva conoscere dare delle indicazioni dice lei questo può può valere su pacciani come può valere su tantissime altre persone cioè a livello probatorio serve qualcosa di sì mi interessa ecco questo aspetto mi ha stimolato un fatto anche quello del signore appunto che ha chiesto potrebbero essere potrebbe essere un indicatore però immagino mi permetto di diciamo di prendere partire dal suo spunto un indicatore perché diciamo così che pacciani non è uno stinco di santo dice allora se non è uno stinco di santo ci potrebbe sì sì potrebbe questi soldi o altre attività potrebbero essere riconducibili a attività non diciamo non legali è più o meno un po' lo stesso meccanismo che si è ripetuto in altri casi soprattutto anche qui in Musello io ora lo dico diciamo per quanto riguarda una situazione completamente diversa naturalmente quindi però il pensiero di dire dato che questo soggetto fa parte di una famiglia sbandata il soggetto è un soggetto vabbè rubacchiato non rubacchiato allora gli possiamo affidare o pensare che non sia capace di fare determinate cose ora io nello specifico mi riferisco è tutto un caso se mi permetti è tutto un caso differente al diciamo al problema del forteto nel quale nella problematica del forteto c'è stato proprio anche da parte di inquirenti che è stato portato via bambino a una famiglia la quale famiglia non era anch'essa diciamo così non era l'ultimo diciamo aveva dei problemi ecco aveva dei problemi e per questo comunque non è stata difesa nello stesso modo con cui sarebbe stata difesa un'altra famiglia con un passato più specchiato cioè è proprio il pensiero il meccanismo il dire vabbè tu rubi tu sei ignorante forse quei soldi potrebbero essere derivanti da non so se lo stesso pensiero possiamo ad applicarlo che so a un colletto bianco o applicarlo ad altri quindi è probabile che anche questo tipo di ragionamento possa essere stato utilizzato dagli stessi inquirenti sotto determinate a seconda dell'identità del monstro beh sì diciamo o secondo anche il passato del soggetto perché si è preso un Pacciani e che ne so non si è preso qualche altro più o meno similare Pacciani viene fuori secondo me da un'indagine giusta quindi abitante del Mugello è pregiudicato perché ha ucciso un uomo e violento quindi abitava in Mugello poi si è trasferito nelle parti di Montesperto che poi è San Casciano quindi da un punto di vista geografico ci stava però insomma l'età c'era aveva avuto due infarti quindi doveva essere vagliato gli elementi che io quando vedevo il processo Pacciani era convinto fosse lui sono stati proprio gli elementi portati poi dall'accusa e determinate mi permetto di dire forzature non dell'accusa ma poi che si sono verificate dopo faccio un esempio all'avvocato del Pacciani e al quotidiano la nazione tre mesi prima cioè Pacciani era ancora in carcere per le figlie tre mesi prima della maxiperquisizione ricordate tutti l'orto del Pacciani arriva un'anonima dice occhio agli avvocati che troverete qualcosa nell'orto del Pacciani maxiperquisizione esce fuori un bossolo che non può dare un'identità perché non era stato sparato chi era questo che ha mandato l'anonimo cioè paradossalmente sono situazioni che sono più quelle che hanno fatto dubitare piuttosto ma anche anche lo stesso lo stesso Lotti quando mi fa delle dichiarazioni a processo tipo quelle che citavo prima o tipo altre sul delitto dell'82 o su quello di Scopeti dove era buio pesto e lui descrive addirittura i dettagli dell'arma o dice un giorno a posto di un altro cioè comincia un attimino a doveva essere comandato in te di di Lotti se leggete il libro c'è quello che racconta e quello che è poi l'oggettività dei fatti è veramente palesemente mente palesemente proprio mente la macchina in avanti i bacciani con tutta la comodità scende con la non curanza tranquilla c'è quello dell'82 di Baccaiano dove addirittura lì passano cinque testimoni e nessuno ha visto nulla quindi che quest'auto le auto del Pacciano e il Vani non c'erano quindi ci sono proprio testimonianze che lo smentiscono testimonianze messe in evidenza dagli avvocati difensori dell'epoca beatamente ignorate dal presidente non dal PG perché la PG le ha presa in considerazione poi la storia si sa la fanno i vincitori e quindi non c'è una testimonianza dell'epoca non c'è una testimonianza dell'epoca che va a connotare Pacciani sulla scena del crimine quindi sono tutte testimonianze quella del Nesi quella poi dell'Ottico a distanza di 10-15 anni quando già il Pacciani apparve sui giornali era in televisione eccetera eccetera quindi io mi astengo da valutazioni giuridiche di cui non ne ho competenza però metto in evidenza l'incongruenza si infatti allora questo è corretto cioè nel senso non è che stiamo facendo un processo a nessuno stiamo semplicemente ripercorrendo grazie all'autore che appunto ha fatto un'analisi critica di quello che è stato ponendo casomai mettendo in evidenza una serie di incongruenze di dubbi e di possibili poi ognuno si farà si darà la sua risposta eventualmente forse leggendo il libro e vedendo il documentario probabilmente sarà ancora più chiara tantomeno sono dati constatabili e veritieri quelli che ho fornito io no? e soprattutto freddi nel senso che sono recuperati appunto dai dati dagli atti giudiziari e quant'altro beh non so se c'è qualcun altro che vuole prego alla luce dei fatti del forteto ripeto ci possono essere dei collegamenti ulteriori con il mosso di Firenze il forteto è vicino a livello geografico di più non posso non mi sento di dire niente che è di fronte al delitto della boschetta diciamo forse la domanda nasce anche dal fatto che comunque notizie di stampa davano queste ipotesi però queste associazioni però per cui rimando non mi ha mai pensato che i delitti sono stati fatti tutti sul percorso diciamo della provinciale di là dal fiume sieve tra vicchio tra quello di vicchio quello di bordo san lorenzo e poi il proiettile vabbè quello centrale relativamente ma comunque fatto a San Piero non è stato fatto in indagini iposesiche su persone che potevano avere anche case di campagna in quel periodo lungo quel tragitto che conosce che non fossero residenti perché personalmente penso i pacciani proprio l'hanno preso come il capo respiratorio ma non era lui ma fin dall'inizio ma che comunque fossero state altre persone che villeggianti o residenze case di residenza estiva luoghi di lavoro anche luoghi di lavoro però io penso più per conoscere il territorio soprattutto la parte di là dal fiume sieve fossero state persone secondo me persone che magari avevano modo di essere cresciuti anche in quella zona o anche in periodi più recenti ai delitti allora io sono perfettamente d'accordo con la signora tranne il plurale persone io direi persona no l'indagine su più persone che potevano avere dei capiti perché lì toccate il futuro faceva il diritto e poi non si sapeva più niente perché poi anche i carabinieri stessi hanno fatto delle indagini sommarie diciamo per l'etera anche nell'84 quando successe della Stefano della Pia della Pia no nel 74 concordo e quindi che ci fosse anche probabilmente la possibilità con dubbio che qualcuno fosse stato preso di mira ma persona troppo fuori dall'ambiente contadino come si sta specificando ma persona sulla quale non era neanche possibile immaginare una cosa del genere io credo che queste cose le abbiano molto sottovaluzate gli inquirenti esattamente quello che che volevo dire e che scrivo è questo a parte questo discorso della sieve comunque il Pacciani aveva abitato lungo tempo lì davanti alla boschetta lì circa la casa sua era lì e poi vorrei dire una cosa riguardo al Pacciani io per molto tempo ho pensato che fosse lui e così via poi a parte discorsi dell'infarto quindi eventuale non capacità fisica proprio in senso di forma però il Pacciani non è quel contadino che si vuol far credere così che non sa parlare se qualcuno ha ascoltato attentamente la sua autodifesa era perfetta era perfetta cioè lui diceva tor nonno and donno ma nel Mugello la gente che ha più di 60 anni lo dicono tutti però non ha sbagliato una conseguenza temporum ma assolutamente congiuntivi e condizionali erano tutti perfetti ecco quindi era meno l'ignorantone cioè contadini ignoranti eccetera no ma non non è una questione di ignoranza o di cultura è una questione quindi anche di capacità cioè di pensarle le cose il fatto che quello fosse il contadino poi magari era l'ubriacone guardi io le posso dare le posso consegnare un dato che Pacciani sì 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 Pacciani non c'è un elemento che lo esclude un elemento tecnico fattuale però le posso dire questo che Pacciani quando fece il delitto del 51 la mattina dopo l'hanno belle preso perché ha confessato si è ubriacato ha parlato quindi questo non è un elemento di rimente però bisogna anche partire dal concetto che non è che si deve prendere una persona adesso mi devi sconfessare che tu sei il colpevole vale il procedimento inverso quindi certo certo quindi ecco io parto da questo presupposto beh adesso non entriamo troppo era tutto era tutto un altro sistema c'era il delitto d'onore addirittura non so se allora se c'è qualche domanda prego la testimonianza che c'è Fosco Fabri di quel episodio dove fu fermato da uno in divisa che non serve di conoscere come la giurica la testimonianza può essere veritiera oppure no allora testimonianza di Forgo allora Fosco Fabri era una persona che rilasciò una dichiarazione lo dico per gli altri che disse di essere stato fermato da una persona indivisa che lo minacciava questo è quello che poi ci racconta Filasto è vero perché c'è agli atti quindi questa dichiarazione c'è quindi ti rispondo affermativamente e sul discorso Spalletti 81 vedremo più amanti perché io sto facendo un lavoro che uscirà dopo l'estate quindi sto mettendo un po' di carte insieme per mi riservo ancora un po' di tempo un po' di tempo bene sì prego lei che ha letto le carte io per quello chiaramente mi sono potuto documentare seguendo il caso su internet facendo chiaramente le dubbute verifiche perché tante notizie sono anche diciamo gonfiate o inventate se chiaramente può rispondere risulta dalle carte visto che parliamo del Mugello delitto 74 delitto 84 se non mi sbaglio anche l'81 a Travalle tra l'altro non tanto distante diciamo dalla zona del Mugello dove è stato trovato il libretto di circolazione sul cruscotto della macchina che in caso di appartarsi con la propria compagna o sembra assurdo tenere il libretto sul cruscotto nel caso della boschetta addirittura io ho letto sembrerebbe che ci sia il portafoglio di lui passato da parte a parte da un proiettile cosa che se uno è in intimità è assurda per un portafoglio umano quando pantaloni erano in tutta altra zona diciamo della macchina volevo solo sapere visto che mi riallaccio al fatto che c'era un'ipotesi di un soggetto che si potesse avvicinare alle macchine in qualche modo senza dare pericolo segno di pericolo ma addirittura probabilmente approcciava le macchine rassicurando per poi probabilmente fare allora questa è l'ipotesi dell'avvocato filastro del poliziotto rispondo no non c'è riscontro perché il portafoglio dello Stefanacci era ripiegato nei pantaloni tasca posteriore ripiegato dietro al sedile posteriore quindi era un colpo a vuoto che è andato a bucare sia il pantalone sia il sedile delle vecchie panda e sia il portafoglio quindi nessun portafoglio in mano l'altro dato è del libretto di circolazione bisogna vedere come venivano fatti i rilevamenti e da quello che vedo nelle fotografie dove vedo impronte digitali sulla macchina non rilevate e dall'approssimazione dei rilevamenti relativi alle repertazioni degli oggetti ti posso dire che è molto probabile che sia stato preso tutto ad esempio il delitto del 68 noi troviamo un documento nella borsetta della Locci dello Bianco quindi veniva fatto e questo io me lo ritrovo anche in altri casi di quegli anni là non veniva fatto una repertazione si vede anche dalle foto il delitto di Calenzano c'è la valigetta della scientifica con le impronte digitali sulla macchina dei cadaveri quindi tutto un pesticcio di persone quindi sono quei dati pending che può essere così ma può anche essere colà questa storia purtroppo è caratterizzata da molti di questi episodi però l'episodio la teoria del poliziotto io non sono assolutamente d'accordo perché è qualcosa di estremamente visibile lampeggiata cioè siamo un po' nel romanzo lì altre persone se ci sono altre domande se no ci possiamo avviare se ci sono altre domande verso la chiusura innanzitutto vi ringraziamo aver partecipato così numerosi speriamo anche di poter ripetere poi eventualmente anche per la prossima opera e quindi casomai approfondire ulteriormente ulteriori aspetti naturalmente è implicito in questo caso il consiglio poi di acquistare il libro e il dvd per chi vuole comunque naturalmente e niente possiamo salutare quindi vi ringraziamo tutti della partecipazione quindi Radio Radicale rimanderà in onda tutto quanto quindi sarà sul sito l'integrale o Camusiello prenderà da Radio Radicale per questioni tecniche che non è andato in onda però comunque speriamo ora nelle prossime settimane di poter o comunque nei prossimi mesi di fare altre iniziative con autori di livello che ci permettono di capire meglio un po' quello che è successo anche nel nostro territorio grazie Paolo Cocchi grazie cari grazie a tutti